guardate qui ragazze che cos'è? è una lettera l'ha scritta vostro padre per la scuola quando era ancora un ragazzino pensate un po' l'ho conservata per tutti questi anni volete che ve la legga? si per favore ok, allora ci siamo il mio nome è Bandit Healer oh, ha scritto male Healer ho cinque anni penso volesse dire cinque anni vostro padre non era molto bravo in ortografia dico bene? per il mio compleanno mia mamma mi ha compleato uno skateboard il colore del mio skateboard è vrede credo proprio intendesse che il colore del suo skateboard era verde vado sul mio skateboard nel biletto dopo la scuola oh, Bandit scuola non si scrive nemmeno lontanamente così ho un ussellino un ussellino? ma di che parla? il mio ussellino si chiama Conan oh, era il suo papagallino do da mangiare a Conan ogni giorno le sue ali sono vredi e blu e il suo beccio è giallo credo volesse dire le sue ali sono verdi e blu e il suo becco è giallo o la sua bocca mio fratello si chiama Red il mio altro fratello si chiama Strip Strip è bravo e anche Red ma Red è bravo anche lui cosa avrà voluto dire? mio papà è bravo ma sgrida Red quando Red gioca a football oh, sgrida Red quando Red gioca a football oh, sì, lo faceva voglio bene alla mia mamma è la mamma migliore di tutto il mondo ma non mi piace il cibo che cucina ha un gusto disgostoso specialmente la sua lasagna è ciome magiare vomito cosa? fine oh, bandit sono tornato resti a cena bandit preparo la mia lasagna oh, grandioso grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.